carissimi amici del sito www.gianlucarossi.it un caro saluto ben ritrovati sinceramente non pensavo di salvare la pellaccia a bologna tanto meno di vincere perché torno a dire il fatto siamo stanchi siamo pochi lo si vince insomma dal fatto che non sempre riusciamo dal punto di vista atletico e mentale a mettere in fila prestazioni continue invece a bologna non solo io mi aspettavo un pareggio e ve lo dico sinceramente non solo ne abbiamo pareggiato ma addirittura abbiamo vinto e secondo me questa è una delle vittorie più importanti di questo inizio di stagione perché comunque ci consente davvero di continuare la nostra corsa le calcane alla juventus che poi come era scontato ha vinto il derby col torino anche se con un po di fatica ma insomma loro hanno talmente tante armi a disposizione per cui è difficile che falliscano queste partite ma l'importante è stare lì l'importante è aver preso addirittura altre tre punti su quello che io ritenevo potesse essere un nostro competitor il napoli adesso abbiamo addirittura dieci punti sul napoli e poi naturalmente ci saranno altre inseguitrici che si faranno vive la roma potrebbe essere a sorpresa una di queste poi naturalmente c'è l'atalanta ma l'importante è stare il più possibile vicino alla juventus in questa fase devo dire che oggi siamo andati sotto siamo andati sotto per un autorete sfortunata col brescia in fondo lautaro era stato fortunato in una deviazione alla difesa avversaria e quest'anno la sorte si è ripresa subito quello che ci aveva insomma un po fortunosamente regalato col brescia infatti bologna è passato in vantaggio su una sfortunata deviazione di devrai però poi però eccoci ancora in rimonta ed eccoci ancora con altri gol di lukaku altri due gol a questo punto diventano nove i centri in 11 partite e devo dire che che questo giocatore anche dal punto di vista dei gol dove l'ho sempre considerato non bravo come i cardi perché ogni volta c'è il paragone seriale tra lukaku e i cardi una roba di un infantilismo tremendo perché allora se proprio dobbiamo fare i bambini dell'asilo ieri i cardi col pari san germain aveva la palla per pareggiare la gara con il digione avessi detto non la pareggiata e il pari san germain ha sorpresa perso ma io torno a dire lukaku lo vedo come ragazzo che piace a tutti i compagni molto utile per quello che fa in campo dietro la crescita di lautaro c'è sicuramente lukaku e poi il fatto che adesso cominciano a essere anche 9 i gol in 11 partite beh sicuramente trasforma lukaku in un giocatore ancora più apprezzato da tutti perché da me lo è sicuramente e poi e poi lautaro lautaro che si è procurato il rigore decisivo è ovvio che adesso non possono contestarlo perché gli juventini ne hanno appena avuto uno molto simile grazie a cr7 ed è chiaro che fa parte un pochino della scaltrezza dell'attaccante no il cambio di direzione il sentirsi toccato perché il contatto c'è sicuramente e quello anche di saper cadere e quindi per quelli che mi hanno detto e che lautaro martinez è un po il cr7 in questa circostanza ecco voi non sapete il complimento che mi state facendo quando voi dite che lautaro ha fatto una cosa alla cr7 nell'andare a prendersi quel rigore ecco voi non sapete non capite l'importanza del complimento che state facendo non tanto a me ma lo stesso lautaro martinez parte che c'è un altro rigore ancora più evidente secondo me sull'azzaro prima tra l'altro l'azzaro grande prestazione questo dobbiamo dirlo grandissima prestazione conte l'aveva detto dovete avere un po di pazienza sull'azzaro io sono sempre di solito paziente al primo anno con i giocatori lo fui anche forse non ve lo ricorderete ma era proprio così addirittura con joao mario il primo anno o con condobbià perché il primo anno ci può stare che uno non si inserisca subito beh stasera ho visto un grande l'azzaro ragazzi ho visto un grande l'azzaro questa è assolutamente la sua prima partita completa ed è stata una grandissima partita partita dall'inizio per lo meno adesso adesso dormo adesso la champions veramente si torna si va a dormire e poi un solo allenamento perché già praticamente martedì si va a dormo e l'obiettivo è chiaro non perdere dopo la vittoria dell'andata non perdere ma questa è un'altra storia la racconteremo naturalmente martedì intanto vi bacio e come sempre forza inter amici ciao ciao